10 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nella giornata ieri a Torre del Greco. Sono guariti invece 13 cittadini. Comunicato un decesso, si tratta di un cittadino di 79 anni. Sono 365 torresi attualmente positivi, di cui 77 ospedalizzati. Il Comune ha trasmesso i dati rilasciati all'Asla Napoli 3 Sud afferenti il numero delle vaccinazioni, con aggiornamento alla data del 26 aprile 2021. Nello specifico, l'azienda sanitaria locale comunica e sono state somministrate 4.319 dosi ai cittadini di età superiore agli anni 80, 2.710 dosi ai cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni, 436 dosi ai cittadini di età compresa tra i 60 e i 69 anni. 1.531 le dosi al personale docente e non docente, 1.399 dosi ai soggetti fragili, 2.511 dosi al personale sanitario, 108 ai caregiver, 107 alle forze dell'ordine. A Torre Annunziata sono 8 i nuovi casi di contagio a Covid-19 a fronte di 97 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'8,24%. Al contempo si registrano anche 6 guarigioni ed il decesso di un uomo di 39 anni. Quando a perdere la vita è una persona giovane, il dolore diventa ancora più straziante, afferma il sindaco Vincenzo Ascione. Luca Cozzolino aveva solo 39 anni e non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il maledetto Covid. E la vittima più giovane è la nostra città, continua il primo cittadino. L'88, dall'inizio della pandemia, un numero pesante, un numero che fa male leggere, un numero che mi auguro con tutto me stesso, non salga ulteriormente. Sono 113 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 8.999. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 2.695, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 6.304. Grazie a tutti.